Grazie a tutti. Il Vescova inaugura la nuova sede del gruppo di volontariato Vincenziano La Pietà. Raccoglie funghi troppo piccoli nei boschi di Cantagallo, montato dalla polizia provinciale. Edoardo Nesi apre la rassegna a Pecci Book con il suo nuovo libro La mia ombra è tua. Una buona giornata dalla nostra redazione, bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Luce verde per gli automobilisti pratesi che avranno uno strumento in più per evitare le code. Grazie infatti alla collaborazione tra ACI e il Comune nascono una app e un sito che consentono di monitorare il traffico cittadino in tempo reale. Fornire informazioni in tempo reale su incidenti, cantieri e code utili ad evitare di rimanere imbottigliati nel traffico cittadino. È l'obiettivo che si pone Luce verde, il nuovo servizio realizzato da ACI in collaborazione con il Comune di Prato. Gli automobilisti potranno consultare un sito www.luceverde.it, una app gratuita e un notiziario radiofonico per avere indicazioni utili sulle maggiori criticità in atto sulle strade comunali e non solo. Il sistema sarà infatti aggiornato anche con comunicazioni sul trasporto pubblico locale, ferroviario e sul traffico autostradale. È la Polizia Municipale che attraverso la centrale operativa tramite un sistema informatico che ha messo a punto di collegamento con la centrale operativa di Roma del Laci inserisce tutte le ordinanze e quindi gli eventi programmabili ma anche gli eventi che emergono dalle segnalazioni della cittadinanza o i sinistri stradali in modo da informare in tempo reale gli utenti. Sarà presto possibile anche comunicare informazioni relative a percorsi che si stanno effettuando e quindi creare questo scambio di comunicazione fra l'utente e il gestore del servizio. Ogni due ore, dalle 7.50 del mattino fino alle 19.50, la centrale operativa di ACI predisporrà inoltre un notiziario sulla mobilità pratese, in onda oltre che sul web, anche su Radio Prato, White Radio e Radio Italia Cina. Tramite la app e il sito, gli automobilisti pratesi potranno selezionare un itinerario di viaggio preferito e verificare che lungo il percorso non siano presenti ostacoli, ma potranno anche segnalare situazioni critiche di viabilità al numero verde 818 34 34. Gli spostamenti sistematici sono diminuiti in favore di spostamenti che cambiano continuamente. Quindi i sistemi classici di informazione sul traffico non sono più efficaci. Bisogna disporre di sistemi elastici in grado di dare informazioni in continua evoluzione, sia come tempi, sia come qualità dell'informazione, perché non interessa sempre sapere le stesse cose. Quindi il sistema deve essere in grado di dialogare, deve essere un sistema intelligente che non ti fornisce informazioni standard, ma ti fornisce quello che vuoi sapere, quello di cui hai bisogno. Il gruppo di volontariato vincenziano della Pietà ha una nuova sede. Ieri sera l'inaugurazione dei locali adiacenti alla Chiesa che sono stati benedetti dal Vescovo Nerbini. Vediamo. Nuova sede per il gruppo di volontariato vincenziano della Pietà che si sposta dai locali della parrocchia, all'interno del quale era nato oltre 50 anni fa negli spazi dell'ex circolo, sempre di proprietà della parrocchia di Santa Maria della Pietà. Ieri l'inaugurazione della struttura alla presenza del Vescovo che ha benedetto i nuovi locali. Sarebbe bello poter sempre arrivare in una parrocchia a dover inaugurare qualcosa che vuole rispondere a un bisogno delle persone, vuole essere un atto di carità. Lei ha lanciato anche un messaggio insomma speciale. Ecco, si tratta di saper interpellare perché la carità non sia di qualcuno a pannaggio di un gruppo, ma sia effettivamente una attenzione, una cura, una premura, una responsabilità di tutti i cristiani. E quindi a volte chiedere non solo è lecito ma anche è doveroso, no? Poi tenendo conto di quanto uno fa e può fare, però chiedere ecco anche agli altri di condividere, questo servizio è importante. Cambiano i locali ma non cambia la missione di carità del gruppo di volontariato vincenziano, sempre attento ai bisogni degli altri. L'obiettivo adesso è quello di poter incrementare ulteriormente le attività di carità grazie alla disponibilità di nuovi e più ampi spazi. Noi ci occupiamo i primi tre mercoledì del mese a fornire il vestiario, biancheria, scarpe, tutto quello che può essere nel guardaroba. Poi abbiamo anche in concomitanza il centro di ascolto. Oltre a questo al di fuori della sede ci sono le visite domiciliari. Anche se siamo un gruppo ben affiatato e ben organizzato, devo dire, però ci auguriamo davvero di trovare anche altri volontari per aumentarlo questo servizio. Il fatto che il Vescovo sia venuto a noi proprio nel momento in cui inauguriamo qualcosa per la carità rimane veramente come un punto forte del nostro prossimo futuro. Abbiamo rinnovato questi locali, per la carità ci dice qualcosa anche come comunità. Quindi dobbiamo, come dire, aumentare le nostre energie perché l'accoglienza del prossimo sia sempre più chiara, bella, visibile, parte dell'espressione della nostra comunità. Aveva raccolto ben 43 funghi, porcini di misura inferiore a quella consentita, cioè con dimensioni del cappello sotto i 4 cm di diametro e per questo è stato sanzionato dalla Polizia Provinciale. È successo pochi giorni fa nei boschi di Cantagallo, in località Luogomano, durante uno dei controlli del territorio mirato alla verifica della corretta raccolta dei funghi, così come previsto dalle disposizioni regionali. Gli agenti hanno disposto il sequestro dei funghi che sono stati messi a disposizione dell'Unione dei Comuni della Val Bisenzio in quanto autorità amministrativa competente, mentre nei confronti del cercatore di funghi è stata elevata una sanzione amministrativa di 430 euro. L'educazione sanitaria in pillole Sistema Salute lancia il progetto, primo strumento di un nuovo modello di sanità tra pubblico e privato. Vediamo di cosa si tratta. Combattere pregiudizi e fake news facendo una corretta informazione in tema di salute. I centri medici di Sistema Salute, sei strutture che lavorano in rete a Prato e Seano, hanno dato vita a un nuovo strumento rivolto alla collettività. Delle pillole di educazione e informazione sanitaria, piccole schede che verranno distribuite negli studi medici e non solo. La novità sarà presentata sabato 19 ottobre alle ore 10 nel corso di un convegno in programma Palazzo Banci Bonamici. Per prevenire è importante anche conoscere, è importante anche essere informati. E quello che abbiamo voluto fare noi con questo strumento è che sono delle piccolissime schede che si occupano di temi che sono temi abbastanza importanti, quali ad esempio gli antibiotici, mal di schiena, PSA e salute della prostata, intolleranza alimentari e altro. Abbiamo voluto proprio dare delle informazioni e dei consigli che possono essere utili ai cittadini. Informare e anche fare chiarezza su alcune tematiche perché le fake news esistono anche in sanità. Esatto, purtroppo esistono e anche molte, per cui c'è spesso molta confusione su quelli che sono dei temi invece molto importanti. Si può fare un esempio a questo proposito? Un esempio di scheda che noi abbiamo fatto è l'utilizzo degli antibiotici. Antibiotici che spesso vengono utilizzati in maniera inappropriata, non alla fine poi essendo così positivi come dovrebbero essere o curativi come dovrebbero essere, ma provocando delle situazioni invece un pochino compromettenti. Per cui un utilizzo corretto anche degli antibiotici può essere una cosa molto utile da conoscere e da sapere. Chiaramente queste pillole e queste schede sono state create, scritte e comunque ideate da dei medici di medicina generale, per cui l'informazione è un'informazione scientifica, è un'informazione corretta. Le pillole sono il primo strumento di un nuovo modello di sanità dove pubblico e privato dialogano e si integrano e che il sistema salute porta avanti attraverso sei centri medici sul territorio, Diagnosis, Etrusca Medica, Iama, Studi Galilei, Ginaicos a Prato e area sanità di Seano. Noi vorremmo essere complementari al sistema sanitario pubblico, di fatti tutti e sei centri sono accreditati e possono svolgere diverse prestazioni, dai prelievi in convenzione che sono partiti adesso a tante altre attività che noi facciamo e convenzionato con il sistema sanitario nazionale, quindi integrato vorremmo integrarlo sempre di più col sistema non competitivo con il sistema sanitario nazionale. Torna all'appuntamento con la grande raccolta alimentare a favore dell'Emporio della Solidarietà. Quest'anno la mobilitazione che solitamente coinvolge molti supermercati di Prato e oltre 200 volontari si terrà su quattro giornate, oggi e domani e la settimana prossima, venerdì 25 e sabato 26 ottobre. Come sempre sono coinvolte nell'organizzazione parrocchie, gruppi e associazioni. La richiesta è quella di acquistare nei supermercati aderenti all'iniziativa e poi donare biscotti, caffè, pomodori pelati, olio di oliva, zucchero, carne in scatola, riso e omogeneizzati. Nei punti vendita verranno realizzate poi delle isole con i prodotti richiesti, scritti anche in lingua cinese, su un volantino consegnato dai volontari dell'Emporio all'ingresso. Si comincia oggi alle 15 fino all'orario di chiusura presso la Coppa del Parco Prato. Al via la seconda edizione di Pecci Books, la rassegna dedicata alle nuove linee uscite editoriali e agli autori che si interrogano sul nostro presente. Ieri sera il primo incontro con Edoardo Onesi, premio Strega 2011, con il suo nuovo romanzo La mia ombra è tua. Vediamo. E' un libro che obbedisce un po' alle regole di base della letteratura, cioè stavolta non c'è l'economia, non c'è Prato, non c'è la finanza e ho preferito concentrarmi sulla storia, una storia grande, più grande possibile. Ecco, come mai appunto questo cambiamento di rotta, diciamo, tra virgolette? No, avevo voglia di raccontare appunto una storia, di affidarmi a un racconto di due personaggi completamente inventati e non rappresentassero nessuno. Avevo voglia di far questo. E' un po' di tempo in realtà che c'ho voglia e che stavolta sono riuscito a concretizzarla. Chi è il protagonista di questa storia? Il protagonista è... sono due protagonisti. Uno è Vittorio Vezzosi, lo scrittore di un solo libro, che ha vinto tutti i premi, ha governato tutte le classifiche nel 1995 quando il libro è uscito e poi si è rinchiuso a casa sua, sulle colline di Firenze, in una specie di esilio volontario. E lui sta insieme a questo ragazzino che lo porta in giro per l'Italia, che è un laureato in scienze dell'antico, che deve assolutamente trovare una strada nella vita. Siccome non trova niente da fare, niente di meglio da fare, va ad accompagnare il Vezzosi. Ci sono già anche altri progetti in cantiere? Beh sì, è stato... questo libro è stato acquisito dalla... i diritti cinematografici sono stati acquisiti dalla Fandango, quindi si spera che ne venga fuori un film, sarebbe bello, mi piacerebbe molto, anche perché loro sono una produzione di grande qualità. Ricomincia il Pecci Books. Quali sono le novità di questa nuova stagione? Beh, innanzitutto il desiderio di continuare un appuntamento che ha avuto così successo l'anno scorso, quello con i libri, quindi di continuare a parlare di letteratura in un luogo dell'arte, perché il Pecci è sempre stato un museo che ha avuto un'attenzione specifica a tutti i linguaggi della cultura e non soltanto all'arte. Quest'anno introduciamo sicuramente rispetto all'anno scorso una molto maggiore presenza femminile in linea con quello che stiamo cercando di fare proprio in tutte le nostre attività, quindi portando scrittrici anche molto note come la Murgia e l'appuntamento avrà appunto una cadenza bisettimanale. Anteprima della nuova stagione della Camerata Strumentale Città di Prato, domani con inizio alle 18.30, al Teatro Gabriele D'Annunzio del Convitto Nazionale Ciconini è in programma uno speciale concerto esclusivo per gli abbonati con l'introduzione alla stagione a cuore di Alberto Battisti, direttore artistico dell'orchestra pratese. La Camerata, che per l'occasione sarà diretta dal maestro Mario Ancillotti, si esibirà in una gioconda antologia di danze che dall'eleganza barocca di Telemann giunge fino a Jimi Hendrix passando per Mozart, Strauss e Bartok. L'inaugurazione ufficiale della nuova stagione della Camerata è prevista invece per giovedì 7 novembre al Teatro Politeama con la partecipazione per l'occasione di Alessio Bax al pianoforte. Domenica prossima si terranno le audizioni della Scuola di Musica Arte in Scena agli allievi della passata edizione. Domani sera saranno protagonisti dello spettacolo Little Italy nell'ambito della rassegna Son 20 anni finalizzata alla raccolta fondi in favore della ristrutturazione del Teatro Politeama. Si avvicina a festeggiare i primi 20 anni di attività Arte in Scena la Scuola di Perfezionamento di Musical del Teatro Politeama di Prato avviata nel 2000 e diretta da Simona Marchini. Domenica 20 ottobre alle ore 14 si terranno le audizioni per l'anno accademico 2019-2020. Tanti giovani, provenienti da varie parti d'Italia, si cimenteranno in una o in più delle tre discipline recitazione, canto e danza che saranno poi insegnate nella scuola ai candidati che supereranno le audizioni. Durante la stagione gli allievi potranno inoltre assistere gratuitamente agli spettacoli, incontrare gli artisti in cartellone e alla fine del corso realizzeranno uno spettacolo che andrà in scena al Politeama. Avete fatto due anni della scuola di Musical, che esperienza è stata? Devo dire che se dovessi descriverla in un modo, in una sola frase, è che mi hanno dato sicurezza, mi hanno dato la motivazione giusta per credere in quello che voglio fare. e uno entra qua dentro pensando sì, mi piace, però chissà che futuro c'è, però qua ti fanno sentire in un ambiente professionale, ti danno tutti i mezzi per crederci davvero. Tanti gli artisti, ballerini, cantanti e attori lanciati in questi 19 anni da arte in scena, solo per citarne alcuni, Giovanni Caccamo, G. Andreotti, Martina Ciabatti, Lorenzo Branchetti e Stefano Simmaco, che fa parte del corpo docente della scuola e trasmette questo messaggio alle nuove leve. Talento e costanza, perché senza la costanza non si va da nessuna parte. Purtroppo i talenti 9 su 10 sono pigri, perché le cose vi vengano facili, però chi ha costanza e talento lo supera. Chi ha sia talento che costanza, allora è imbattibile. Dopo il grande successo dello scorso maggio, gli allievi dell'ultima edizione di Arte in Scena domani sera saranno protagonisti del musical Little Italy. L'aereo è pronto qui alle 21, alle 21 qui a Ippoliteama, si sale tutti e si vola a New York, a Little Italy, che è il locale più famoso di New York, perché da lì sono passati da Frank Sinatra fino a Lady Gaga, passando per Bruce Springsteen, da Madonna, Bon Jovi. I ragazzi si sottomettono anche a fare il cameriere in questo famoso ristorante, in questo famoso locale, pur di respirare un'aria che farà parte del loro sogno per diventare un domani attori dello show business. Sabato 19 ottobre, ore 21, qui al Teatro Politeama. Venite a vedersi! E passiamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Salve e un caro saluto, ben ritrovati con l'appuntamento meteo offerto dal Consorzio Lamma. Una perturbazione atlantica, la vedete, interessa buona parte del continente europeo, soprattutto la Spagna e la Francia, tende gradualmente ad avvicinarsi alla nostra penisola, che tuttavia risulta in parte protetta dalla presenza di un campo di alta pressione, che invece si mantiene stazionario sul Mediterraneo orientale. Andiamo a vedere le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Nel pomeriggio abbiamo un cielo prevalentemente nuvoloso, con la possibilità anche di qualche debole pioggia a carattere sparso, fenomeni più probabili sui rilievi settentrionali e sulla Toscana centrale, sul Chianti, sul Pisano, sul Livornese, forse anche sulla provincia di Firenze. Si tratta comunque di precipitazioni non particolarmente intense. I venti sono deboli di Scirocco, con temperature stazionali e abbastanza miti per il periodo, nonostante la copertura nuvolosa. Uno sguardo anche al fine settimana non cambia molto, la situazione non è molto evolutiva, lo vedete sabato, una giornata con cielo prevalentemente nuvoloso, soprattutto al mattino, quando saranno anche possibili delle deboli piogge sui rilievi settentrionali. Nel pomeriggio ancora addensamenti consistenti e compatti sulle province di Lucca e Massacarrara in particolare, mentre sulla Toscana centro-meridionale saranno possibili delle timide e temporanee schiarite. I venti sono sempre di Scirocco ma risulteranno più sostenuti cosicché i mari risulteranno prevalentemente mossi su tutti i bacini. In aumento lieve le temperature, nonostante la copertura nuvolosa, si tratta di un flusso infatti molto mite ed umido che interessa la nostra regione. Per quanto riguarda la giornata di domenica ancora poche le variazioni, lo vedete, rimarranno venti di Scirocco abbastanza sostenuti con mari mossi, un cielo prevalentemente nuvoloso e ancora la possibilità di qualche debole pioggia che è attesa con maggior probabilità sulle province di Lucca e Massacarrara. In particolare, con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti. Ed è tutto anche per noi, il telegiornale termina qui. Il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato è per questa sera alle 20.30. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie a tutti.